Ci lascia una leggenda della televisione e del giornalismo. Come ha trasformato il panorama mediatico in Italia? Luigi Bardelli, nato nel 1936 a Pistoia, si è distinto sin dalla giovinezza per il suo impegno educativo nella gioventù cattolica. Negli anni 70 fonda TV Pistoia, una delle emittenti più influenti della Toscana, mirata a dare voce agli ultimi. Oltre a dirigere TV Pistoia, Bardelli ha guidato Corallo, un'associazione che unisce le emittenti cattoliche, avendo un ruolo chiave nel suo comitato esecutivo. Ti ha ispirato la storia di Luigi Bardelli? Lascia un commento con le tue riflessioni. Il suo lavoro non solo ha promosso la cultura e l'educazione cattolica, ma ha anche offerto una piattaforma per le voci marginalizzate. Non perdere le nostre future analisi e omaggi. Iscriviti al canale, attiva le notifiche e lascia un like per supportarci. La sua scomparsa è un duro colpo per tutti coloro che credono nella forza del giornalismo impegnato e umanitario. Oggi, mentre ricordiamo Bardelli, riflettiamo su come il suo eredità continuerà a influenzare il mondo del giornalismo. Questo è tutto per oggi. Grazie per averci seguito. Continuate a riflettere e a cercare la vostra verità. Alla prossima!